Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchie all'interno del mondo open source. Come ben saprete sabato 24 ottobre 2015 si terrà in tutta Italia in contemporanea il Linux Day. Sapete già di che cosa sto parlando. È quell'evento in cui simpatizzanti, appassionati, attivisti, collaboratori e quant'altro del software libero open source e del mondo Linux in generale si ritrovano per poter discutere, per poter tenere dei piccoli talk, degli eventi aperti alla cittadinanza, aperti a tutti per poter far conoscere il meraviglioso mondo del software libero open source a quanta più gente possibile. Oltre a questo sono anche degli ottimi modi per poter far uscire dalle proprietà nei vari pinguini e avere un modo per aggregarsi, per scambiare 4 chiacchie, per conoscersi. Magari ci si è incontrati soltanto in via digitale e appunto nel Linux Day si ha la possibilità di vedersi in carne e ossa. Non so se vi ricordate, lo scorso anno ho pubblicato un post dal titolo Linux Day, i vostri talk. Anche quest'anno ho intenzione di fare questa rubrica, di fare questo post. Se avete realizzato un intervento interessante per il vostro Linux Day, siete quindi dei relatori, e volete condividere ad un pubblico più ampio, potete farlo. Grazie alle pagine di Marcos Box vi ospiterò volentieri. Inviatemi il vostro materiale, naturalmente, non pretendo che mi inviate già da adesso. Inviatemelo nel momento stesso in cui saranno conclusi i talk, quindi così avete l'esclusiva del materiale. Come dicevo, se avete appunto voglia di condividere il vostro materiale, su Marcos Box troverete uno spazio dove poter linkare tutti quanti i vostri interventi appunto per poterli far apprezzare e conoscere ad un pubblico più ampio. E fare così una specie di post partita del Linux Day nazionale italiano, un post partita in cui poter scambiarci anche opinione e distanza tra i vari Google. Se vi piace questa idea, prossimamente sulle pagine di Marcos Box troverete un post dove sarà possibile inviare tutto quanto il materiale o se volete commentare qui, poi vi dirotterò nel post di conseguenza non appena saranno aggiunti tutti i vari materiali. Spero che questa idea vi piaccia. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, mi raccomando, aderite numerosi a questa iniziativa.